Musica Bella a tutti ragazzi qui JTals ed eccoci ritornati su Grand Theft Auto 5 Oggi però non siamo qui per andare a vedere questo fantastico gioco Ma siamo qui per, cioè sono qui diciamo, per chiedervi scusa Chiedervi scusa per cosa? Chiedervi scusa per questa mia settimana di assenza Cioè alla fine non è che è successo niente di particolare Però comunque mi è dispiaciuto avervi lasciato questa settimana senza nessun video Diciamo che non ho potuto, anche se volevo non ho potuto Per mancanza di tempo e vari impegni non sono riuscito a registrare niente Comunque vi dico che la prossima settimana sicuramente, cioè non sicuramente La prossima settimana torneranno nuovi video Nei quali vi parlerò appunto anche degli impegni che ho avuto Vi dico una breve anteprima Parleremo un pochettino di Ghost E di tutti i giochi che usciranno tra poco Quindi, passiamo un attimino alla breve clip che state vedendo Al breve video che state vedendo Perché se no non avrebbe senso Allora, durante una partita che stavo facendo così online È capitata che la mia macchina si è trasformata Cioè si è trasformata, diventata invisibile Io non so per niente come ho fatto Credo che sia un glitch ma l'ho fatto veramente involontariamente Veramente, involontariamente, vabbè L'ho fatto involontariamente proprio Quindi non saprei ripeterlo Ci ho provato, più o meno a fare quello che avevo già fatto Però non ci sono riuscito Quindi è stata una cosa casuale Ho visto che già anche ad altre persone Ho visto, non mi ricordo, in un video di qualcuno Sempre su YouTube Ho visto che c'era questa cosa dalla macchina Però non so appunto come si fa C'è capitato casualmente Quindi ho detto, vabbè mi serve una piccola Diciamo una piccola clip per fare questo brevissimo video Perché non utilizzare questa? Quindi niente Ecco diciamo quello che vi volevo dire In questo video che state attualmente vedendo Adesso non so se laggerà Perché adesso lo sto guardando E quanto vuole lag Spero che non laggerà il video Quando lo caricherò Non so cosa dire Quindi niente Se avete visto questo video Vi ringrazio perché Comunque è molto piccolo Niente Come ho detto prima Noi ci vediamo la prossima settimana Con tanti nuovi video Niente Lasciate un bel like, un commento E noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Grazie a tutti